Lucio siamo pronti per partire con la prima comica che arriva direttamente da Napoli ha preso un diretto Ryanair Napoli Pinerolo l'aeroporto del disagio oggi è Pinerolo Rita Etna Buonasera Buonasera Allora io oggi sono contentissima perché oggi riflettevo su me stessa e pensavo caspita, ma io sono proprio in gamba ragazzi voglio dire, sono una donna di quasi 40 anni singola, indipendente, forte, ho anche una certa posizione voglio dire scalo le montagne, tra altre cose eppure sapete come mi definisce la gente normalmente? una donna cazzuta o ancora meglio qualcun altro dice una donna con le palle e c'è anche chi fa il gesto per farlo capire perché giustamente è un concetto troppo astratto per essere compreso senza una rappresentazione figurativa me ne rendo conto ecco e la cosa bella è che questa cosa è un complimento cioè come dirti sai, si poverina sei donna però per tua fortuna hai qualcosa di un maschio quindi bene così ecco e a me piacerebbe che valesse anche il contrario di questo esperimento tipo Luciano Luciano io ti ammiro perché sei un uomo sensibile, empatico e multitasking complimenti, sei veramente un uomo vaginato anzi ti dirò di più tu sotto hai una vulva ma non così, una vulva così come enorme, come il traforo del fregius cioè ora dico io lo percepisci come un complimento? provateci cioè mi piacerebbe che questa cosa diventasse un modo di dire comune comunque tornando a me vi dicevo io avrei tutte le ragioni per essere soddisfatta di me stessa eppure eppure no eppure no io non sono come dire per la società io non sono una donna completa perché mi manca quel tassello quel particolare che mi renderebbe veramente una donna realizzata quella cosa senza la quale parliamoci chiaramente una donna può veramente definirsi tale quella cosa che fa sì che possiamo noi donne esplicare la nostra funzione fisiologica di donne e quindi ho deciso di porre rimedio a questa cosa e ho deciso ho preso una decisione molto importante per me stessa mi rifaccio le tette basta ho deciso le rifaccio anche perché voglio dire devo bilanciare questo corpo d'altra parte che cosa devo farne di queste spalle se non ci posso reggere un paio di tette enormi che ci devo scaricare i frigoriferi dell'Euronics a casa delle vecchie e quindi sì che potrò essere a quel punto una vera donna completa con una quarta coppa D ne ho parlato col mio capo tra le altre cose perché il chirurgo mi ha detto che avrò bisogno di un paio di settimane di mutua e sono felicissima perché il mio capo è stato troppo carino con me quando io l'ho detto è stato contentissimo mi ha detto wow Rita sono veramente felice per te ma soprattutto per i colleghi in ufficio hai idea l'umore come si risolleverà adesso sarà bellissimo e anch'io devo dire la verità non vedo l'ora di potermi trovare in una riunione a dover dire a qualcuno ehi guarda che la mia faccia è più su è il sogno di una vita che si realizza davvero no signori Dio benedica la chirurgia estetica e tutto ciò che ci fa stare meglio con noi stessi davvero io odio gli ipocriti odio quelli che criticano le rifatte tipo diletta le otta ora diletta le otta è indubbiamente un grandissimo pezzo di gnocca non c'è niente da dire eppure c'è chi dice beh sì però non è naturale lei è rifatta certo hai ragione perché effettivamente essere bella perché ti sei rifatta le tette non è un merito mentre invece nascere figa lo è ah no lo capisco ragazzi la povera diletta la povera diletta è nata con il naso storto come un ramo di olivo e lo sterno piatto come l'elettroencefalogramma di un leghista cioè diletta diletta ha dovuto sgobbare degli anni per mettere da parte i soldi per pagarsi tutta la plastica che si è messa addosso quelle tette quelle tette sono il frutto del lavoro di una professionista del sudore della sua fronte cioè andrebbero ammirate per questo no e invece invece no non lo facciamo questo discorso ah tra l'altro qualche giorno fa una mia amica mi ha detto che suo papà deve avere un intervento no mi dice sai deve avere un interventino alla prostata una di quelle cose che tutti gli uomini ad una certa età devono fare un po' come le donne col botox e lì ho avuto l'illuminazione dopo le tette il botox sì perché io non so se ricordate la grandissima Anna Magnani che diceva al truccatore non mi nascondere queste rughe che ci ho messo una vita a farmele venire così che stronzata cioè io le rughe che ci ho qui in fronte non mi ricordano niente di bello io le voglio cancellare tipo voglio cancellare questa qui che mi è venuta quando al lavoro mi hanno detto ci sono tantissimi esuberi tu sei esuberante fuori dai coglioni oppure di quando in ospedale mi hanno detto guardi purtroppo sua nonna ce l'ha fatta no oppure ancora quando questa qui questa qui che mi è venuta quando il mio ex mi ha detto sì è vero mi scopo una ventenne ma sotto i tre minuti di rapporto sessuale si può effettivamente definire tradimento ecco capite io tutta questa roba tutte queste rughe le voglio riempire di botox fino a dimenticarmi che cosa significano mentre invece non vorrò mai riempire le rughe dai lati della bocca che mi ricordano solo tutte le risate che mi sono fatta nella vita soprattutto la risata che mi sono fatta quando ho scoperto che la ventenne l'aveva mollato il mio ex ma solo dopo essersi fatta pagare le tette nuove grazie grazie